buongiorno cari amici chiedo scusa per il look ma è arrivato l'inverno inizia a far freddo non sono bello senza cappello e allo stesso modo senza berretto allo stesso modo potete benissimo guardare sentirmi parlare con in auto con il cappello con il berretto sulla testa oggi voglio parlarvi brevemente del video di ieri di alessandro majorano il video che alessandro majorano ha messo in rete giovedì 29 novembre appunto alle ore 8 e 21 per la precisione andatelo a cercare se non l'avete ancora visto è un video molto 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 interessante a mio modesto giudizio mi sono confrontato con altri studiosi di majorano molto più anche molto più autorevoli molto più eminenti e molto più preparati del sottoscritto e tutti quanti mi pare di poter dire che seppur con accenti diversi concordiamo sull'importanza di questo video che non è un video che majorano ha pensato per un largo pubblico ma è un video che majorano essendo un ottimo comunicatore quindi essendo molto pronto molto preparato sotto questo aspetto ha pensato appunto per informare chi doveva essere informato una ristretta cerchia di persone molto importanti a cui questo messaggio era destinato e a cui questo messaggio sarà arrivato credo proprio naturalmente tengo a precisare che questa è soltanto una mia interpretazione personale io studio majorano cerco di mettere insieme i pezzi è una sfida intellettuale molto molto interessante e naturalmente quando parlo parlo a titolo personale quindi è solo una mia interpretazione solo una mia interpretazione nient'altro che una mia interpretazione e questo ci tengo a ripeterlo tre volte perché voglio che appunto che sia ben chiaro a tutti secondo me secondo me secondo me e secondo altri amici che ho sentito telefonicamente comunque questo video di ieri appunto è così importante perché majorano ci dà una giustificazione ci spiega un po' per per perché nella tanto chiacchierata procura di Firenze succedevano e succedono determinate cose o meglio perché non succedono determinate cose vale a dire perché il motivo ci spiega un po' il motivo per il quale abbiamo il porto delle nebbie una procura che è un porto delle nebbie per cui majorano presenta ormai da tempo tutta una serie di documentazione tutta una serie di denunce intercettazioni prove provanti di vario genere documenti di una rilevanza assoluta che attestano profili penali molto rilevanti eppure 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 non succede niente non succede mai niente questi fascicoli vengono aperti rimangono lì qualche mesetto qualche mese dopo di che va tutto in cavalleria e noi non riuscivamo mai a capire perché e forse 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 ripeto forse ieri majorano lo ha fatto capire anche a noi ricordo ancora questa è soltanto una mia interpretazione personale ma sembra di mi sembra di poter dire che in italia ho il vero stagio di cui dovremmo imparare di cui forse anche i media dovrebbero focalizzarsi su questo ho l'impressione la netta impressione che il vero stagio non sia silvia romano la cooperante italiana che è stata rapita in africa e lì la questione la conosciamo questi vogliono soldi si pagherà un bel po di soldi e se non si fanno cavolate o azioni di forza silvia romano tornerà presto fra di noi no il vero stagio il vero stagio è un altro si trova in italia vive in italia apparentemente a piede libero ha un ruolo importante fa il pm in una determinata procura e però 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 c'è un però però è un ostaggio è un ostaggio perché 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 majorano ve lo ha spiegato in qualche modo e è un dubbio che io lascio lì vuoi vedere che majorano ieri ci ha in qualche modo chiarito e fatto luce su determinati comportamenti molto strani che avvenivano in questa procura vuoi vedere che a tutto c'è un perché ripeto non è una un'accusa non ho nessun tipo di prova lo dico chiaramente a tutti non ho nessun tipo di prova è solo ed esclusivamente una mia interpretazione però si cerca di mettere insieme i pezzi due più due a casa mia fa quattro e chissà che io la mia interpretazione non sia giusta chissà 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 e comunque presto sapremo concludo questo breve video invitandovi a seguire sempre alessandro majorano a studiarlo a cercare di capirlo ma di capirlo in profondità di capirlo veramente e a condividerlo a pubblicizzarlo perché è veramente una persona che merita il massimo della visibilità e dello studio uno studio veramente approfondito grazie a tutti e saluti alla prossima grazie a tutti